La Fondazione GIMB nel febbraio di quest'anno ha pubblicato un report indipendente sui trasferimenti di valore dell'industria farmaceutica a professionisti sanitari, a organizzazioni sanitari, nonché quelli destinati alla ricerca, da cui è emerso che da quando esiste il codice FPA, cioè quello che impone a tutte le aziende l'annuale rendicontazione pubblica, sicuramente il livello di trasparenza ha fatto un bel salto in alto, però ci sono molti ambiti su cui la trasparenza può essere migliorata e quello che emerge dalla giornata di oggi, che è Roche, di fatto rappresenta la prima azienda italiana che si sta muovendo in maniera importante in questa direzione con varie iniziative, ne cito due tra le tutte, la prima è quella di non scegliere più i professionisti sanitari che parteciperanno agli eventi da loro sponsorizzati, ma questo verrà sostanzialmente dato alla facoltà, alla organizzazione a cui appartiene, di cui il dipendente e il professionista, e l'altra cosa è che le donazioni saranno effettuate attraverso bandi gestite da organizzazioni indipendenti e quindi non distribuite a pioggia come invece è accaduto finora e come accade nella maggior parte dei casi. Con questo metodo quali sono i vantaggi rispetto a prima? I vantaggi rispetto a prima sono sicuramente che di fatto la donazione viene sterilizzata, mi si permette il termine, diciamo da un bando pubblico e quindi il denaro viene assegnato come un bando, come un finanziamento pubblico che viene erogato da un ente dello Stato, diciamo, se poi affidato a un'organizzazione esterna e quindi non c'è quell'elemento di conflitto diretto tra il ricevere del denaro da parte dell'industria e i potenziali conflitti che si possono innestare. Tra l'altro è opportuno sottolineare sempre che il conflitto di interesse non è un comportamento ma è una condizione nella quale si trova chiunque intrattenga il rapporto di tipo finanziario con l'industria farmaceutica o biomedicale, ma non è detto che al conflitto di interesse conseguano necessariamente dei comportamenti illeciti piuttosto che opportunistici, questo poi ovviamente dipende da quella che è la sensibilità di ciascuna persona che lavora all'interno del sistema, però è inevitabile che una migliore trasparenza serva a ridurre questa idea di complottismo che esiste nel mondo della sanità sul fatto che automaticamente se un'organizzazione o un professionista prende del denaro all'industria a questo si associa un comportamento fraudolento.